Direi che questo ottantesimo anno di vita del Festival Musicale del Maggio Fiorentino si connota fondamentalmente per l'anniversario verdiano che accade questo anno e per Firenze ovviamente è strettamente legato al fatto che qui a Firenze al Teatro della Pergola venne rappresentato per la prima volta il Macbeth di Verdi. Ecco allora che la ripresentazione e la programmazione di questo anno del Macbeth è stata un'occasione per una riflessione sul tema della violenza che è un tema così attuale e che trova però nella visione biblica delle vicende umane un orizzonte di uscita dalla logica della violenza del tutto domine invece il dramma shespiriano e poi il dramma verdiano. Il tentativo è quello quindi di rileggere come attraverso la coscienza umana e la rivelazione divina si esce da una logica di violenza soprattutto della violenza strumento della vendetta passando dalla violenza indiscriminata attraverso la legge del taglione attraverso l'esperienza del capo espiatorio invece all'offerta di sé che Cristo fa anche alla violenza per vincere con l'amore la violenza umana allora l'amore diventa l'orizzonte di speranza in cui anche la violenza può essere vinta. Grazie.